No alla chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Barra. Lo chiedono a gran voce, con tanto di striscioni appesi giorno e notte ai cancelli dell'edificio nella periferia est di Napoli, gli avvocati, che da settimane protestano contro la decisione del Ministero della Giustizia. Ai nostri microfoni Gianfranco Mallardo, consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, e Salvatore Maddaloni, presidente Associazioni Avvocati Enrico De Nicola. La giustizia ormai è diventata appannaggio dei ricchi, nel senso che si chiudono sedi degli uffici giudiziari e si levano risorse alla giustizia. E' emblematico il caso del giudice di pace di Barra, che serve un bacino enorme di popolazione e di numero di affari e che viene chiuso. Forse anche per disattenzione di parte della politica locale, che non ha tempestivamente richiesto il mantenimento di questo ufficio. Ma credo che stiano facendo ammenda e credo che probabilmente il Comune di Napoli si sia reso conto dell'importanza di questo presidio giudiziario e quindi ne chiederanno il mantenimento al più presto. Abbiamo raccolto la disponibilità del Sindaco di Napoli e anche quella di San Giorgio per il mantenimento di questa sede giudiziaria. Non è un segreto, questa è una sede giudiziaria strategica perché è utilizzata da una densità di popolazione importante. Consideriamo che ci sono 184 mila abitanti che insistono su questa giurisdizione, con un volume di procedimenti che tocca i 15 mila processi l'anno. E' un sito strategico che non solo è ben attrezzato ma anche raggiungibile da tutte le parti di Napoli. Quindi è un paradosso voler sopprimere e depauperare la periferia di un presidio giudiziario così importante. Tra l'altro questo presidio giudiziario non può essere assolutamente assorbito da nessun'altra struttura per le dimensioni. Infatti era prevista la soppressione con l'accorpamento al giudice pace di Napoli ma la coordinatrice del giudice pace di Napoli ha indirizzato una relazione tecnica al ministro Orlando e al capo di gabinetto manifestando l'indisponibilità alla ricezione perché i numeri non consentirebbero un normale svolgimento dell'attività giudiziaria. Un'altra cosa estremamente importante è che questo è un presidio giudiziario che ha un primato. sentenze molto rapide, processi che durano in media 200 giorni quindi diciamo una media internazionale considerando che l'America in genere è primatista nella risoluzione delle controversie civili invece ci mette 300 giorni quindi mi sembra veramente un primato internazionale.